le migliori serie televisive ebbene devo ammetterlo sebbene qualche insegnante di semantica semiotica cinematografica del dams o scuole affini mi rimprovererà tosto le serie televisive mal le digerisco per lo più la maggioranza di esse sono profondamente convinto che nonostante molte di queste in vero assai poche possono essere ottimamente costruite con sceneggiature perfino ingegnosamente architettate farcite di personaggi carismatici affascinanti o solamente interessanti che senza ombra di dubbio attraggono la nostra curiosità siano allestite inconfutabilmente al fine di un solo primario scopo quello di intrattenere e basta non vi è arte basti vedere un nuovo format adottato ad esempio da netflix ieri sera ho visto con molto piacere il primo episodio del metodo cominsky una serie che si manterrà il ritmo dolce amaro dei suoi primi 30 minuti scansonato nostalgico leggerissimo potrebbe ascendere presto tra le mie preferite ma questo lo saprò soltanto a visione completata completa completata delle sue 10 puntate ecco 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 ogni episodio del metodo cominsky dura appena appunto mezz'ora alcuni dando un'occhiata veloce ai minutaggi dei singoli spezzoni non vanno addirittura oltre i 20 minuti roba che non fa in tempo a guardare i titoli di testa che già sei arrivato a quelli di coda con un brevissimo intermezzo di qualche sketch fra michael douglas e alan harkin gli episodi invece di maniac durano singolarmente non più di 40 minuti ciò per dire che il livello di attenzione dello spettatore medio quello a cui punta netflix si è notevolmente abbassato un tempo come da me già detto la gente si piazzava sul divano e su rai 3 i primi di gennaio quando spesso lo programmano sì e l'ultimo dell'anno danno sempre una poltrona per due verso l'epifania il giorno della befana danno invece appunto questo film si guardava per intero c'era una volta in america col solo spazio pubblicitario fra il primo e secondo tempo in cui andava a dissetarsi si fumava una sigaretta oppure recandosi in bagno come diceva mio nonno devo andare in bagno a fare un po di acqua la gente era abituata alla contemplazione alla splendida lentezza oggigiorno invece i ritmi troppo frenetici giocoforza impostici dalla società non ci permettono di soffermarci troppo sulle cose eppure io mi soffermo su un bel paio di cosce che poi bisogna guidare la macchina nel caos cittadino clacson dunque si è adottato questo formato appunto velocissimo di immediato consumo tanto per farci passare un po il tempo libero sì visto che tua moglie non te la dà guardati il metodo comischi le serie televisive in generale fanno esattamente questo sono storie che a mio avviso potevano essere sintetizzate senza assurde digressioni superflue e onestamente noiose senza si parieti poco funzionali alla vicenda narrata al fulcro sostanziale della trama sì qual è il succo però in due ore e mezza al massimo questa regola vale per ogni serie televisiva anche per quelle migliore ecco non essendo un patito di serie tv appunto non ne guardo molte me le scelgo oculatamente in base ai miei gusti vado distinto decido di sorbirmi tutti gli episodi di una serie semmai uno o due a sera una serie una serie e poi via la sera dopo aver vagliato scrupolosamente posso dunque dire il mio sguardo è limitato e forse avete ragione voi a sostenere che le serie televisive siano oramai il futuro non solo della televisione ma del cinema cinema mamma mamma detto ciò sono soltanto cinque le serie televisive degli ultimi anni che mi hanno quasi del tutto appagato e reso fiero con fiera e non sono una bestia reso fiero di averle viste quelle per cui ritengo di non aver buttato del tempo prezioso nel visionarle partiamo dal quinto posto per arrivare al primo way number one stranger things si tutto vero non inventa niente ricicla il sincretismo culturale anni 80 soprattutto e ripesca da spilber joe dante perfino da west craven e chi più ne ha più ne metta ma la miscela è ottima commovente una serie che davvero ti riporta indietro nel tempo come ritorno al futuro di zemeckis quarto posto marvels the punisher o finalmente frank castle dopo tante trasposizioni orrende mi riferisco a quelli con doff lundgren e thomas jane trova nel volto roccioso di john bernard berta alberta berta filava filava davvero la sua mimesi perfetta la serie è violentissima con tanto di scene in cui the punisher addamoli sfonda gli occhi del suo eterno torturatore e finale in cui macella il cranio dell'amico traditore figlio di puttana ma a parte qualche eccesso funziona a meraviglia mind min 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 hunter gli episodi di fincher sono stupendi zodiac sono i cavalieri te lo zotiaco no non è quello zodiac zodiac incontra silence of the lambs il silenzio degli innocenti qualche luogo comune di troppo sui serial killer rovina l'amalgama ma la serie spinge come al secondo posto true detective prima stagione ma questa terza stagione con questo alima e shalali ali ma non è che mi paia mi paia un gran che ma vedremo prima stagione non è assolutamente perfetta anzi più la riguardo e più i monologhi di rust che tanto mi avevano impressionato la prima volta che li vidi mi paiono costruiti artefatti e pizzolato qui comunque preferisco sempre la pizzaiola la pizzaiola è buona ma non solo quella della carne al sugo proprio la pizzaiola c'è una pizzaiola dalle mie parti che ha un paio di tette vabbè mi sembra un tizio furbissimo bravo ad accattivarsi con pessimistico maledettismo le simpatie dello spettatore actor del mondo come per tutte le serie televisive ribadisco la storia poteva durare molto meno se ne poteva fare un film semmai di tre ore molti risvolti e molte parentesi sono esagerate eh sì i parenti sono sempre esagerati la serie dispersiva alla fine ciò che resta appunto la forza interpretativa di Matthew McCungie nel suo ruolo della vita gli ultimi venti minuti con la discesa nel covo di Carcosa this is Carcosa la resurrezione cristologica di Rust e i due amici di tutta un'esistenza che meditano su questa brutta faccenda da lacrimoni al primo posto invincibile the night of la perla per eccellenza la prima puntata è qualcosa di magnifico abbiamo fuori orario di Scorsese che incontra la penna di Richard Price sino alla lenta mostruosa esplosione di un equivoco giudiziario spaventoso ma anche in questo caso come the guardian disse bene disse bene sebbene the night of rimanga a mio parere un capolavoro la serie si perde un po' per strada con una storia processuale abbastanza convenzionale da Perry Mason e John Grisham e smarrisce molta della carica della prima puntata il finale però è da brividi e salva i pur minimi difetti in un chat tv in un chat tv tv a proposito di tv ecco personalmente Gomorra, Narcos, Westworld soprattutto la seconda serie ma è veramente una schifezza in particolar modo come dice il vecchio Jack Barton basta adesso mi hanno scassato ucaz ovviamente ho trascurato apposta Twin Beaks in ritorno che non è una serie televisive è la storia della mia vita soprattutto quando Laura Palmer torna a casa e urla di paura perché questa sua vita è stata tutta un immane incubo terrificante siccome la mia vita, ve ne avevo già parlato di questo, si a un certo punto similmente a the night of chi mi stava attorno mi ha fissato negli occhi oddio, what happened? e allucinato da quel che vide urlò fra il meravigliato, lo sbigottito l'incredibile materializzato si ancora si qualcosa di tragicamente linciano salve la gente mi chiede ma lei davvero va in giro e dice che lei è il genius ma il genius di che? ma sai io non voglio fare nella vita l'avvocato, il medico, il chirurgo il professore d'italiano, l'insegnante di matematica io sono il genius e al che la gente risponde ma il genius di che? il genius di tutto grazie oddio cazzo che botte ti ho preso cazzo che botte ciao ciao Sì